Penso sia l'inizio di un'amicizia, ecco, quindi la base anche della vita, penso. L'inizio di un'amicizia e di una relazione, e questo penso sia una cosa fondamentale, perché si basa sulle relazioni, le relazioni che riesce a creare tra le persone e anche tra festival, fatti ovviamente di persone come i nostri. Io penso che il gioco sia intelligenza, sia astuzia, sia divertimento, e quindi sì, forse è la base della vita, no? Un bambino inizia a scoprire il mondo attraverso il gioco, inizia a creare relazioni attraverso il gioco, quindi si mette in gioco, e quindi penso sì, il gioco sia questo, sia anche matematica, sia logica, sia scoprire nuove regole, nuove dinamiche. Di fatti fare un gioco è molto difficile, quindi non è così banale come cosa, no? Quindi penso sia molto importante anche a livello artistico, chi riesce a raccontarsi e a giocare o a studiare dei giochi per la rappresentazione è un qualcuno che ha un livello sicuramente superiore, secondo me, sia di pensiero, di capacità di relazionarsi. Grazie a tutti.